Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova meravigliosa Domenica Insieme dalla parte degli animali Buongiorno a tutti e ora voglio raccontarvi la storia di queste due caviette per un piano Intanto come si chiamano? Quella che ha in braccio tu si chiama Chloe, invece quello che ha in braccio io si chiama Polpetta Che non mi simpatici Ciao Stella, sono qui nel mio fantastico studio Il tempo è terminato, ci vediamo domenica prossima con una nuova Domenica in famiglia, una nuova Domenica Insieme Una nuova Domenica dalla parte degli animali